Salvaguardare il personale in servizio nelle ex nove province e impedire la loro mobilità, oltre che garantire i servizi essenziali erogati dagli enti. Con questo intento le segreterie sindacali, le RSU e i dipendenti si sono ritrovati in assemblea ancora una volta nell'aula consigliare della provincia di Caltanissetta. Una lunga riunione per fare il punto della situazione alla luce del primo incontro dell'osservatorio regionale con l'assessore all'economia Alessandro Baccei, che ha chiesto l'applicazione della legge del Rio e di conseguenza la mobilità del personale scongiurata in questi tre anni. La prima riunione, la prima costituzione dell'osservatorio regionale, stabilito, fissato da legge 15, che doveva finalmente dare vita a un organismo che doveva riorganizzare il personale, in realtà è stata una grossa delusione per tutti. L'onorevole Baccei ha esordito dicendo che non ci saranno questi 180 milioni per le risorse, per il personale e tutto, il quale dovrà andare necessariamente in mobilità. Era quello che noi avevamo scongiurato e che avevamo cercato assolutamente di allontanare con la promulgazione di questa legge, che sinceramente è nata male, poteva solo finire peggio. E così è stato, è stata impugnata ben due volte, ha avuto un iter legislativo lungo e aggonsciante e poi con questo esito che ha visto l'altro giorno, il 7 luglio, alla presenza dell'onorevole Baccei, con questa notizia bomba che a ripercussione andrà a ricadere non solo sul personale dell'ex provincia, ma su tutto quello, sul personale precario che sicuramente sarà pregiudicato da questa mobilità. Un incontro per mettere in campo delle azioni eclatanti e di impedire il dissesto finanziario degli enti in assenza di un intervento del governo centrale per ridurre il prelievo forzoso oppure di una copertura finanziaria a carico della regione siciliana. Intanto una delegazione delle ex nuove province venerdì incontrerà il prefetto di Siracusa a sostegno dei dipendenti che da tre mesi non percepiscono lo stipendio. Le nostre azioni saranno eclatanti, ma noi abbiamo delle proposte. Le proposte sono due sostanzialmente. Una, che ci trasferiscano funzioni e risorse, che ci mettano nuovamente in grado di funzionare, di evitare il disastro che da tre anni questi territori subiscono, vedi le strade, le scuole e quant'altro. Oppure ci trasferiscono tutti alla regione. Noi proporremo ai nostri colleghi di fare istanza per il trasferimento alla regione. Non possiamo andare nei comuni, non perché non ci vogliamo andare, ma perché noi siamo solidari con i lavoratori precari.